Good morning Milano! Buongiorno a tutti e a tutti! Come state? 7.08 venerdì primo marzo o marzo, dipende da che parte arrivate, se arrivate ad Abrianza o no. Comunque, come state? 331-7853-555. Iniziamo subito con le cose importanti. Il nostro numero di Whatsapp, come potete scrivere per interagire con noi, per essere co-protagonisti, ma che dico, anzi, protagonisti della nostra trasmissione, come sempre, tutti i giorni in diretta qui su Crystal Radio dalle 7 alle 9. Buongiorno davvero e speriamo che nonostante la pioggia che sta scendendo battente sulla nostra città, e anzi bella battente, sia comunque una buona giornata per tutti, ma soprattutto sapete perché è una buona giornata? Perché è venerdì! Thanks God, it's Friday! Ebbene sì, è venerdì, ultimo giorno della settimana e riusciamo, forse, anche questa settimana a togliercela dalle balle. E scusate, comunque, inizia marzo. Ce l'avete anche voi questa cosa? Nella mia famiglia si usa il primo giorno del mese e so che in questo momento, se mi stanno ascoltando dall'altra parte della radio, sanno già dove sto andando a parare. E si fa così, tutti i primi giorni del mese c'è un atto propiziatorio, diciamolo così, un mantra da ripetere, che possiamo ripetere tutti insieme e, anzi, forse, il mese di marzo è il più giusto anche da utilizzare per iniziare questa tradizione. Tutti insieme, tre volte ripetiamo, conigli bianchi, conigli bianchi, conigli bianchi. Che questo ci porti buon auspicio per questo mese che inizia proprio oggi. Pinguini tattici nucleari, alle 7.13 minuti. So che in regia hanno apprezzato, anzi, hanno detto che questa è la più bella dei pinguini, giusto? Mi confermate con una mano? Sì, dicono di sì. Dicono sì, sia Viola che Chiara, dicono che è la migliore dei pinguini. Sono contento di averla messa, grazie all'ufficio programmazione di Crystal Radio. 331-78-5355, il nostro numero di Whatsapp. Alberto con il suo messaggio del mattino, anzi, ormai con un upgrade. Nient'altro ci manda anche delle immagini. Ha fatto l'upgrade al nuovo Alberto S. E allora, un bel upgrade con il sergente di Full Metal Jacket che ci indica e ci dice Buona giornata, un parade ball. Tira sui chap e va a lavorare. Ebbè, ci sta. Buongiorno, buon weekend e buon mese di marzo a tutti gli ascoltatori e allo zio Fabio. E intanto, anche per oggi, pioggia a catinelle. Eh sì, il sergente di, come si chiama, l'ho appena detto, non mi ricordo più. Comunque, il sergente militare di Full Metal Jacket, eccolo qua. Mi ricorda qualcun altro, vi do quindi un altro buongiorno che è storico del cinema. Se ci sono bambini, toppiategli le orecchie. Buongiorno, miei cari vicini. Vaffanculo! Sì! Sì! Vaffanculo anche a voi! E buongiorno anche a voi, quindi. Eddie Murphy, che fantastica. In questa scena del principe cerca moglie, come fare a non ricordarlo prima o poi. Anzi, io ci faccio un promo di Good Morning Milano. Ve lo dico, ve lo dico. Comunque, dicevamo, acqua e pioggia a catinelle. E così per tutto il giorno, almeno così dicono le previsioni del tempo oggi, su Milano. E non sembrerebbe che si vada a migliorare. Anzi, domani dovrebbe intensificarsi anche la pioggia, abbassarsi le temperature. Anche domenica così, lunedì, finalmente, lunedì 4 marzo. Finalmente dovrebbe invece tornare un semi bel tempo. E se non dovrebbe smettere di piovere, uscire qualche raggio di sole. Ci sta, siamo a marzo, marzo pazzerello. Abbiamo iniziato magari con un po' più di anticipo, ma insomma, sarà un po' così. Va bene, ci sta. Finalmente, anzi, un'idea che tornino delle stagioni, no? Che magari, insomma, le abbiamo perse un po' ultimamente. Chissà mai che magari quest'anno riusciamo un po' a tornare un po' alla normalità. Dubito fortemente, però, magari. Insomma, la speranza è quella. Quindi, oggi pioggia con temperature tra gli 11 e i 13 gradi. Sabato pioggia ancora più forte, di doppia intensità rispetto ad oggi. Così dicono i vari meteo che sto guardando in questo momento. E media intorno, cioè, temperature intorno ai 9 gradi per la minima e 14 gradi per la massima. Invece, domenica, ed è quello che mi preoccupa un pochino, perché oltre ad esserci la pioggia, ci sarà anche il vento e sappiamo i danni che fa pioggia e vento nella nostra città. 9 gradi la minima per domenica, 12 gradi la massima per domenica 3 marzo. Lunedì poi si tornerà, come dicevo, all'asciutto, ma sempre con temperature tra i 9 e i 13 gradi. Anche la settimana prossima, così le temperature sono sempre, anzi, se arriva un giovedì soleggiatissimo, così sembrerebbe, con però minime intorno ai 4 gradi e massimo intorno ai 15 gradi. Quindi, insomma, un bel frecce in arrivo. Ricordiamo, insomma, che siamo comunque a punto a marzo, quindi, insomma, ci sta. Pioggia, come dicevamo, in tutta la città, sicuramente con un traffico, quindi, che vede rallentare il proprio scorre nelle nostre strade cittadine e extracittadine. Ma per saperlo meglio, lo sapete, questo è l'orario, questo è il momento giusto, andiamo a sentire in diretta lo scenario in questo istante del traffico milanese, grazie a Luce Verde. E quindi, Luce Verde, linea a voi! Clementino insieme a Fabi Fibra, chi vuole essere milionari? Questo è il loro pezzo 2019, che non se lo ricordava, io ad esempio, però devo dire che è sempre una bella coppia, quella di Clementino e Fabi Fibra. Fabi Fibra, che vi ricordiamo, in questo momento è in, come si diceva, una volta ci va nelle sale, in questa casa no, nei vostri salotti, con una serie firmata a Netflix, che è nuova scena, lui, Joliet e Roseville, interessante, devo dire, forse perché la mia età è un po' complicata in alcuni passaggi, però devo dire interessante per capire un po' la scena musicale del rap, della trap, dell'hip hop che si sta muovendo appunto nella nuova scena, che è appunto arrivata dopo i famosi, Fabi Fibra, magari chi, appunto, si ricorda, è Neffa, insomma, i primi pionieri, poi la seconda ondata in cui, ad esempio, Clementino fa sicuramente parte e poi quest'ultima generazione, questa nuova scena appunto in cui Joliet e Roseville sono sicuramente parte, chi mostra è parte integrante di questa nuova scena. Trovate su Netflix, dategli un'occhiata, secondo me può essere interessante. Abbiamo sentito prima la luce verde con il traffico e la domanda che si fanno tutti i cittadini è, ma scusate, ma in tutti questi anni tra l'area BRC, le auto in circolazione a Milano sono aumentate o diminuite? Dovrebbe essere semplice, si va, si conta, quanti siete? Dieci, quanti eravate l'anno scorso? Dodici, siete diminuiti, quanti siete? Dodici, hanno considerato dieci, siete aumentati, no, dovrebbe essere semplice, non lo è. Ecco, nel senso che leggiamo da Milano Today e pensate che il titolo è proprio una domanda, le auto in circolazione a Milano sono aumentate o diminuite? Non si sa, nel senso che è guerra di cifre tra l'assessore alla mobilità Censi e alcuni consiglieri di maggioranza che contestano le politiche cittadine su traffico, automobili e inquinamento. Ebbene sì, perché allora è uscito il report di Amat, l'Agenzia della Mobilità Territoriale, con i dati aggiornati a gennaio 2024 e la Censi, mercoledì, ha anticipato i dati comunicando, ad esempio, una diminuzione del 3,78% degli ingressi in area C. Asterisco, fondo pagina, da lunedì al venerdì, del 3,16% di diminuzione il sabato e poi un piccolo aumento, 6%, la domenica. E questi sono i dati, no? Quindi, vabbè, poi dice, questi sono gli ingressi in area C. In area B siamo più o meno sempre su quello, meno 0,7% tra il lunedì e il venerdì, meno 1,63% il sabato, più 10% la domenica. Però presi così ci sono ben quattro dati che abbiamo dato in negativo. Il giorno dopo vengono pubblicati i dati a tutti quanti, quindi anche ai consiglieri, e sapete già di chi sto parlando, no? Lo sapete? Radio Carlo Monguzzi, ecco, per intenderci, e quando gli legge dice, attenzione, ma se io faccio la media di tutta la settimana, compreso sabato e domenica, i conti non tornano, o meglio, c'è un aumento. Eh sì, un aumento degli ingressi in area C dell'1,99% e un aumento degli ingressi in area B dell'1,34%. E soprattutto, in questa percentuale, mancano gli accessi precedenti alle 7.30 del mattino e post-19.30, ok? Perché quando la ZTL, l'area B e l'area C non sono, diciamo, attive. Che sono circa, si dice, 50.000 ingressi per quanto riguarda l'area C e i 200.000 per quanto riguarda l'area B. Quindi, insomma, sono un bel numero di auto, 200.000 auto in più nella nostra città. Non è solo, però, Monguzzi questa volta a far sentire, ma ha anche Enrico Fedrighini, consigliere del gruppo misto, che dice, il report conferma una costante incremento del traffico in città. Allora, se adesso anche uno più uno non fa più due, qui è veramente un casino. Diteci come sta situazione. Quanto c'è di gente in città? Più? Di meno? Le auto ci sono? Non ci sono? Com'è? Vero che il PM10 è alto. The Colors. Un ragazzo, una ragazza. E qui la regia balla sempre su questa canzone. Devo dire che, insomma, ma no, anch'io, devo dire che anch'io dallo studio li faccio il controcanto e il contro... la controdanza anche, eh? 3317853555. Grazie dei WhatsApp che stanno arrivando. E la cosa bella di voi che ci ascoltate è che ci aggiornate anche su quello che succede nella vostra vita, no? Vi ricordate, ieri a un certo punto ci scrive quella di Bergamo, così si firmano, e ci dice che doveva andare con 25 ragazzini, farsi due chilometri e mezzo a piedi, con 25 ragazzini di 11 anni per portarli a una biblioteca. E poi c'era anche la riunione di condominio la sera. E allora questa mattina ci aggiorna su quello che è successo. E quindi buongiorno da quella di Bergamo. Sono sopravvissuta la giornata di ieri. Già questo mi sembra un buon risultato. Unico prezzo, la mia voce. Stamattina mi sono svegliata e sembro un fischietto rotto. Beh, insomma, non male. Spero che anche quest'oggi tu non abbia a dover portare i 25-11 anni in giro per la città, credo, di Bergamo in questo caso. E chissà quanto sono stati contenti di andare in biblioteca. Sarà che non ho grandi speranze nei giovani ricordando, non nei giovani, nei giovani undicenni studenti che vanno in giro per la città. Ma soprattutto, non perché sono loro, poveretti, perché sono io. Cioè mi ricordo io a 11 anni cosa avrei fatto andando in giro. Tutto avrei guardato tranne che la biblioteca. Non lo so però, forse almeno che mi portate in una biblioteca tecnica o tipo al museo. Cioè al museo della scienza tecnica mi perdevate, ve lo dico. Cioè io a qualsiasi età e ancora oggi cerco almeno una volta all'anno di andarci, mi perdo. Nel senso che sì, io lì tra trenini, trenoni, navi, aerei, macchine che fanno cose, pianeti e tutto, io mi ci perdo. Cioè poi c'è la parte di Leonardo da Vinci che mi piace tantissimo. C'è il pendolo perpetuo, l'avete mai visto? Sì, il pendolino, non quello di Maurizio Mosca. Quello che gira, perché lui in realtà è fermo, ma in realtà si muove leggermente per via della rotazione terrestre. E quindi disegna, se non ricordo male, sulla sabbia che c'è sotto una sorta di striscia che continua. L'ho spiegata male, lo so, però non è che sono scienziato. Chiamate Burioni, ve lo spiega lui, che poi boccia tutti, però chiamate lui, io cosa ne so. Cosa ne so, io sono qui a raccontare quello che vi succede a voi e anzi, anzi, dobbiamo festeggiare perché arriva un altro messaggio al 3317853555 e scrive, buongiorno Fabio, ieri è nata la mia nipotina Sole. Oh, ma che bel nome poi. Oggi giornata uggiosa, ci serve un po' di sole. Quindi grazie Sole di essere arrivata qui tra noi. Mi raccomando, noi che siamo in ascolto, cerchiamo di rendere questo maledetto mondo un po' migliore, anche un po' meglio, un po' più meglio, come si potrebbe dire malissimo, ok? No, cerchiamo di renderlo migliore anche per Sole, perché ne ha il diritto, no? Quindi benvenuta Sole, poi il messaggio continua, dice, lei dai tu un degno benvenuto? Vi saluta la zia Katia che vi ascolta dall'ospedale, bene? Quindi salutiamo anche molto probabilmente la sorella, sorella credo, di Katia, che ha avuto appunto questa bellissima bambina di nome Sole. Allora non posso che darti il benvenuto Sole tra di noi e lo facciamo nella migliore delle maniere, nell'unica maniera in realtà che possiamo fare noi radiofonici, cioè mettendo una canzone. Noi chiediamo che il Sole, ma tu Sole, sia un bellissimo spettacolo, anzi tu sia il più grande spettacolo dopo il Big Bang. E questo era Giovanotti, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, benvenuta Sole ancora, dedicato appunto alla nuova arrivo Sole dalla zia Katia. Ormai siamo... se volete facciamolo un momento dediche, va bene? Se volete dedicare una canzone a qualcuno scriveteci pure al 331-78-535-55. Poi le ira dell'ufficio programmazione me le prendo io, non vi preoccupate. Non vi preoccupate. Allora abbiamo parlato di automobili, abbiamo parlato di circolazione e poi arrivano le solite notizie dalla città. Perché Milano, caro affitti, caro vita, le case, la bolla immobiliare, la bolla edilizia, eccetera. Perché? Casa a Milano, leggiamo da Corriere della Sera a Milano, Gli alloggi nuovi sono solo il 10% dell'offerta del mercato sul mercato e in centro i prezzi medi sono aumentati del 6,7%. Le previsioni per fine 2024 indicano poi un'ulteriore crescita del 2,5% a causa dell'aumento di costi degli appalti e delle aree. E quindi poi trovate anche una mappa, una lista delle zone più o meno, cioè più care, quindi in realtà andate in quelle meno care. Comunque pensate che nel 2023 è proseguita la corsa dei prezzi, che quindi erano già in aumento dagli anni precedenti, che per il nuovo si sono attestati a 7100 euro al metro quadro media cittadina, in aumento del 7,7% rispetto al 2022. Ma, ed è questo che è sconvolgente, del 54% in più rispetto a 5 anni fa. E la previsione per fine 2024 indica un'ulteriore possibile crescita del 2,5%. Io non so come faremo a vivere in questa città. Pensate che all'interno dell'area C i prezzi medi vanno da un minimo, scusate, meno di 12.000 euro al metro quadro, con delle punte che toccano anche i 19.000 euro in operazione all'interno della cerchia dei navigli. Si va verso l'esterno, dove appunto il valore medio massimo toccato in tutta la città è di 7100, però c'è qualcosa, diciamo, verso l'esterno più, sappiamo, i quartieri sempre quelli, Baggio, Barona, Grattosoglio, quelli lì, dove si può trovare qualcosa intorno ai 5.400 euro per metro quadro. E quindi, insomma, non semplice. Ancora più esternamente, e vorrei capire dove andiamo a quel punto, si riesce ad arrivare anche, anche, pensate, quasi ai 4.000 euro, ma in realtà sotto i 4.000 euro ormai non si va più da nessuna parte. Questo è quello che, appunto, ormai è la fotografia sulla situazione immobiliare di Milano, ma soprattutto quello che lascia sconvolti è che, nonostante tutti i cantieri, nonostante tutto quello che si faccia, solo il 10% dell'offerta sul mercato immobiliare milanese è il nuovo. Mi viene da dire, forse questo 10%, però dovremmo anche abbassarlo di più, perché basta, cioè non c'è più spazio per costruire case nuove, e abbiamo visto cosa succede quando si cerca di andare a costruire in situazioni che poi dopo, magistratura, comune, si cerca di qua, si cerca di là, e poi adesso abbiamo cantieri, numerosi cantieri fermi, perché c'è forse qualche vizio di forma. In realtà tutti hanno fatto le cose regolari, ma ci si è acconti che forse c'è qualcosa che non andava bene proprio nei regolamenti, proprio nella regolarità di certe procedure. Vabbè, questo è quanto. Le case aumentano e noi chissà dove andremo a finire. Io non ne ho idea. vero. Andiamo avanti con la musica. Loro sono Elio e le storie tese, Born to be Abramo. Elio e le storie tese, Born to be Abramo. 7,47 minuti. Wow, 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 wow. 2014. Pensate, questo pezzo è ben storico. Anzi, eravamo in regia a spiegarci anche un po', perché magari io li conosco un po' di più, le nuove generazioni conoscono un po' meno Elio e le storie tese. Consiglio mio, ascoltatelo e prendetevi il tempo per apprezzarlo. Io ci ho messo un po' di anni, confesso che insomma non sono nato subito fan degli Elio e le storie tese, ci ho messo veramente tanti anni ad appassionarmi, c'è poi però effettivamente, effettivamente, grande spettacolo. Grande spettacolo quello che c'era fino al 2017 al Teatro Ringhiera. Avete presente? Lì vicino a Grattosoglio, da quelle parti lì, proprio lì, chiesa rossa, via Boifauva, quella zona lì, perfetto. Chiuso nel 97, riaperto nel punto di domanda. Questo è lo striscione che spesso e volentieri portano in giro i rappresentanti appunto del Teatro Ringhiera. Teatro Ringhiera che è stato chiuso, oltretutto, dopo che era stato osannato tutta la giunta comunale, comune, che bello, il nostro Teatro Ringhiera è tutto e poi viene chiuso nel 2017. Ma qualcosa arriva, infatti leggiamo da Milano Today che il Teatro Ringhiera potrebbe riaprire per la stagione 2025-2026, o almeno questo è l'impegno che si è presa la consigliera Caterina Misti, consigliera del Partito Democratico, in Municipio 2025. Il nostro obiettivo, ha detto, è riaprire il teatro per la stagione 2025-2026. La struttura è chiusa per ristrutturazione dal 2017, quindi avete presente quando voi chiamate qualcuno a rifare il bagno e vi dice ci mette due settimane e poi ce ne mette tre? Ecco, pensate cosa è successo qua. Anzi, no, adesso facciamo i lavori, mettiamo a posto, dal 2017 a oggi non ho ancora finito. Vabbè. Ma il quartiere ne sente la mancanza, continua la consigliera Misti. E durante la seduta è stata appunto anche inscenata una protesta con uno striscione in cui si leggeva la data di chiusura e un punto di domanda al posto della data di riapertura, questo dice il giornalista. Secondo la consigliera Misti, ha chiesto appunto ai consiglieri comunali che erano presenti, che siano fatti tutti gli sforzi per rispettare il cronoprogramma, ovvero l'inizio dei lavori, anche non sono ancora iniziati i lavori dal 2017 a oggi, entro il mese di maggio e la pubblicazione del bando entro questo mese. Su questa cosa del bando voglio capire che cosa significhi, nel senso che se è il bando per i lavori va bene, se è il bando per l'assegnazione credo che anche qui ci sarebbe poi da aprire un dibattito molto interessante, perché attenzione, il teatro in ghiera aveva già degli assegnatari, si chiama Atir, è una delle più grandi compagnie teatrali di Milano e non solo che compagnie teatrale, cioè gestione e tutto, hanno fatto grande il teatro in ghiera. Io direi che forse sarebbero da dare d'ufficio a loro di nuovo il teatro in ghiera nel 2025, quindi attenzione anche a questa cosa qui, non è così scontata. In più, piccola nota, polemica a margine, ma sono molto polemico sul teatro in ghiera, per come è stato chiuso, per le modalità con cui si è arrivata la chiusura, praticamente poi a ridosso di una stagione teatrale, la stagione era già programmata e Atir per un anno ha dovuto andare in giro a cercare posti dove far esibire le compagnie teatrali che aveva già prenotato e quindi anche, diciamo, opzionato e quindi moltamente anche da dover pagare. Pochi giorni prima della chiusura, grandissimo convegno a Roma sulle periferie cittadine, la copertina, la cover, la manifesto di questo convegno era un'immagine della piazza davanti al teatro in ghiera, con il teatro in ghiera e con un'operazione fatta da Atir su quella piazza. Due giorni dopo, una settimana dopo, neanche un mese dopo, chiudi tutto quanto. Quindi anche un po', come si dice nei casi, cornuti e mazziati. Ecco, insomma, anche no, direi. Quindi io chiedo al comune che ci sia un po' di occhio di riguardo per questa situazione, perché è importante quel teatro, è importante che sia in quella zona del municipio 5 ed è importante che Atir lo possa riprendere in mano. L'Izzo con Special, eh? Che pezzo lì, L'Izzo? Sempre ben apprezzata, ma adesso noi dobbiamo andare a apprezzare anche il giornale radio delle otto, che ci darà tutte le notizie sull'Italia internazionale, politica, sport, insomma un po' di tutto alle otto qui su Cristal Radio, quindi ci fermiamo per qualche istante, torniamo qui dopo in il giornale radio con tanti ospiti e quest'oggi parliamo anche, ritorna la bionda che conta, ve lo dico, eh? Sì, sì, ritorna la bionda che conta, viola con la Milano che conta, è pronta a darci numeri, ma dare i propri numeri, data i propri numeri qui in diretta. Quindi non abbandonateci, non cambiate canale, chi cambia canale è un cristallino, no, no, i cristallini sono qui ad ascoltarci tutte le mattine su Cristal Radio in diretta con Good Morning Milano e andiamo con la musica e poi giornale radio. Cindy Lauper, Girl Just Wanna Have Fun, il Cristal History delle otto, noi siamo qui adesso in attesa del nostro ospite che sta arrivando, anzi è già collegata con noi, lo vediamo che stanno appunto in regia sistemando tutti i collegamenti, allora ancora una piccola canzone e poi siamo qui appunto con il nostro ospite di giornata e andiamo avanti con la nostra puntata. Adesso i Santi Francesi con l'amore in bocca. Santi Francesi con l'amore in bocca alle otto e undici minuti, eccoci qua con i nostri ospiti di giornata, stiamo parlando di Beatrice Tassone e Silvia Amodio, buongiorno e benvenute entrambe. Buongiorno, ciao Bea. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno, allora io lascio la parola a voi a questo punto perché appunto siete in due perché volete raccontarci un bellissimo progetto, anzi un percorso mi verrebbe quasi da definirlo perché non è definibile solo in una parola e quindi anzi lascio Silvia a te la parola per spiegarci bene di cosa stiamo parlando. Allora hai detto bene poi lascio la parola a Beatrice che è la protagonista assoluta di questo progetto che in sintesi vi racconto. Quando mi è stato chiesto da Coppa Lombardia di occuparmi di autismo, io sono una fotografa giornalista che si occupa da tanti anni di temi sociali, ho pensato che dovesse essere una persona autistica a farlo. Così ho ripensato a Beatrice che era venuta nel mio studio quando era una bambina di otto anni, in quell'occasione aveva dimostrato una, oltre ad essere una persona molto molto simpatica ed ironica, aveva dimostrato una grande predisposizione per il disegno. Quindi ho pensato che quello potesse essere lo strumento adatto per rivolgersi a un pubblico ampio e trasversale. Quindi abbiamo iniziato questo percorso così un po' al buio perché in effetti è la prima opera di Beatrice che è stata accompagnata, è giusto ricordare, da Marco Madoglio, uno sceneggiatore e il risultato è a dir poco straordinario perché il suo lavoro, addetto anche degli addetti ai lavori, risulta un lavoro artisticamente molto molto maturo. Adesso passerei la parola alla meravigliosa Beatrice. Ecco Beatrice tu hai disegnato un fumetto diciamo più o meno, adesso poi mi dici tu perché non vorrei sbagliare perché qui si dice manga, fumetto, non voglio sbagliare le parole corrette che so che insomma anzi gli appassionati di fumetto poi mi tirano le orecchie. Non è solo la tua bravura nel disegno ma anche la storia che viene raccontata che è molto interessante giusto? Sì è Senza fare troppi spoiler la storia di essere Bea parla di una protagonista autistica e albina, in sostanza è una biografia e parla dalla percorso di diagnosi e si vede la crescita e racconta l'autismo anche con gag ironiche. È un fumetto dal molto dalla storia semplice ma allo stesso tempo è un disegno molto elegante e curato. Ecco tu dicevi anche con gag ironiche tutto insomma c'è bisogna cercare anche a volte di sorridere su certe tematiche e forse anzi facendo un po' sorridere ci arrivano anche più facilmente i messaggi che devono arrivarci anche no? Sì comunque penso che la risata è molto importante aiuta tanto. Io personalmente ho curato le illustrazioni, la storia l'ha fatta Marco Madòi, ha fatto lui la sceneggiatura, diciamo che riguardo la storia l'ho aiutato fornendogli degli aneddoti o aiutandogli nella scrittura del soggetto ma principalmente ho lavorato sulle illustrazioni. Quello che a me ha colpito in questo percorso è stata la grandissima maturità di Beatrice nel misurarsi con un progetto che lei non aveva mai fatto e quindi il risultato è molto elegante anche perché Beatrice raccontalo tu hai una grande passione per il Giappone che si è tradotto non solo in un interesse superficiale ma Beatrice da tanti anni studia anche il giapponese per cui c'è un po' questo filo conduttore che rende il tutto molto molto elegante. Eh sì ho visto questa passione per il Giappone Beatrice io volevo parlarne con te perché ho saputo che quando è stato a settembre finalmente sei riuscito ad andare in Giappone giusto? Non ci siamo non ci siamo trovati per un pelo io ho fatto agosto in Giappone quindi sono molto curioso di sapere finalmente cos'è stato questo tuo viaggio e quanto di quello che ti aspettava hai trovato o quanto invece sei rimasta stupita da quello che magari appunto non ti saresti mai aspettata? Ah sì a settembre sono andata in Giappone avevo questo sogno da tantissimi anni e ho visto veramente dei posti bellissimi comunque mi sono innamorata di Kyoto. Ah ecco l'ho vista poco l'ho vista male io. Kyoto è bellissima cioè soprattutto lì ho anche incontrato per la prima volta una mia amica giapponese perché studiando la lingua ho cercato diversi giapponesi con cui parlare perché comunque diciamo che è stato un bello anche parlare in giapponese aiutavo infatti il gruppo a fare traduzione. Ah vedi ecco le tue abilità saltano subito fuori quindi le tante abilità che hai in un virgolettato che abbiamo trovato in un'intervista che hai rilasciato tu hai detto anche ci sono anche dei lati positivi dell'essere una persona autistica per esempio abbiamo degli interessi speciali e molti pensano che questo sia un limite in realtà è una caratteristica che ci porta a diventare degli esperti in un campo preciso e questo nel mondo il lavoro può essere molto utile. Tu in cosa sei esperta? In cosa ti senti un'esperta? Eh oddio e quindi il mio esperta è tanto ma sicuramente il mio interesse speciale principale ne ho diversi interessi e il mio interesse principale è il giappone quindi conosco molto della cultura giappone non solo vabbè studio la lingua ma conosco anche molto bene la cultura la società che studio è molto interessante conoscere anche bene una cultura eh sì infatti anzi conoscere le altre culture ci va aiutare a conoscere meglio anche noi stessi o idea. Silvia Essere Bea appunto questo progetto che avete fatto con Beatrice a chi si rivolge per secondo te? Cioè a chi secondo te deve leggere Essere Bea? Ovviamente tutti perché il linguaggio è quello dei ragazzi però l'abbiamo trattato proprio in maniera trasversale e abbiamo un contributo anche di Erika Salomone che è una psicologa dell'Università Bicocca di Milano che approfitto di ringraziare proprio perché voleva essere uno strumento di divulgazione che attraverso Beatrice potesse raggiungere un maggior numero di persone. Beatrice è stata molto importante perché precisina com'è nel senso positivo del termine ci ha proprio aiutato anche nella terminologia corretta quindi il suo intervento è stato prezioso non solo perché ritornando alle sue abilità anche quelle legate al disegno lei l'ha coltivata talmente tanto da essere una professionista anche se questa è la sua prima opera quindi ehm lei si focalizza si concentra veramente tanto e raggiunge degli obiettivi importanti proprio per questa sua caratteristica unita alla alla passione la la sua condizione di persona autistica quindi è sicuramente un un prodotto che verrà apprezzato sia dalla critica che dai dai lettori io personalmente non sono una grande amante del del fumetto però ultimamente anche con Bruno Bozzetto che Beatrice conosce abbiamo fatto tanti lavori insieme proprio perché mi rendo conto che sia uno strumento trasversale poi Beatrice ha voluto rappresentarsi fin dalla diagnosi ai giorni nostri con con un manga e insomma poi te lo manderemo anzi approfitto scusa Beatrice ricordiamoci di invitare che il 2 aprile noi siamo a Palazzo Marino prima adesso diremo la presentazione del fumetto che va in stampa oggi ragazzi oggi e allora oggi si sta oggi si stappa si stappa per la stampa benissimo oggi si festeggia festeggiamo 2 aprile dicevi Silvia il 2 aprile poi lo presenterete a Palazzo Marino sì il 2 aprile a Palazzo Marino alle 16 e 45 stiamo ancora mettendo appunto gli inviti ci saremo sicuramente aspetto aspetto il whatsapp d'invito ma non più che altro per fare la star perché poi se no me lo dimentico che so che c'ho una memoria che fa schifo quindi ci farà piacere ecco più persone ci sono anche l'occasione ci sarà anche un dialogo oltre alla presentazione del lavoro di Bea bello giustamente Silvia tu dicevi questa è la prima opera di Bea però in realtà c'è un'altra opera famosa di Beatrice che è un ritratto giusto o sbaglio un certo ritratto che è andato a un certo presidente della repubblica o sbaglio Beatrice com'è andata questa cosa me la racconti? ah sì praticamente il 2 aprile dell'anno scorso ma è già passato un anno il 2 aprile torna però vorrei dire 2 aprile torna perché è la giornata dell'autismo ottimo ottimo quindi è il tuo giorno da usare proprio per fare le grandi cose cosa hai fatto appunto un anno fa nel 2 aprile? il 2 aprile ho firmato il contratto di lavoro perché io sono di Copp Lombardia però attualmente sto facendo distacco presso Pizza Auto e Monza che è il ristorante degli autistici e praticamente è venuto il presidente come ospite è stato bellissimo quindi per omaggiare la sua onorevole presenza io ho regalato questo ritratto l'altro c'è un aneddoto molto interessante perché inizialmente la sicurezza voleva che io davo il quadro a un assistente che glielo avrebbe mostrato e poi l'avrebbe messo via subito ok invece diciamo che ho saltato ho bypassato questa regola ecco e glielo ho dato io direttamente è in prescrizione il reato è andato non c'è problema va bene hai fatto benissimo brava e come è reagito? come è reagito il presidente? come è reagito appunto? guarda è stato commovente perché è stato lui era emozionato era molto felice proprio visibilmente questa cosa mi ha sorpreso perché il presidente spesso è molto serio e raramente manifesta le sue emozioni lui era sinceramente felice commosso infatti è stato veramente un evento bellissimo molto interessante dimmi Silvia no volevo aggiungere solo una cosa che non abbiamo detto che Beatrice è anche albina e questo significa che lei ha un limite della vista molto importante per cui lei vede e racconta il mondo con solo un decimo di vista e questo lo rende ovviamente ancora più straordinaria ancora più straordinaria soprattutto quando poi vedete i suoi disegni che mio Dio sono qualcosa di pazzesco sono veramente impensabile quasi che appunto con un decimo si possa fare così tanto e invece appunto come dicevi si può fare tanto e veramente tanto e anzi appunto aumentare forse per le proprie specialità e quindi diventare davvero qualcosa di speciale ma allora il 2 aprile lo presentate poi dove lo troveremo questo Essere Bea? lo troverete nelle Ipercop e a Pizzaut in tutti i punti vendita della Lombardia sicuramente adesso stiamo prevedendo anche una vendita online dobbiamo capire bene attraverso quali canali perché sicuramente il fumetto sarà molto richiesto anche fuori dalla nostra regione Beatrice la prossima domanda però è questa quando il prossimo viaggio in Giappone? non lo so purtroppo non so quando purtroppo sono aumentati i biglietti diciamolo costano anche troppi i biglietti per il Giappone sono d'accordo con te sono aumentati spero di tornarci presto spero tanto di tornarci presto solo che organizzare un viaggio in Giappone non è molto facile però spero tanto di tornarci beh buttiamolo lì vogliamo tradurre il fumetto in giapponese no fantastico io vi porto in giro per il tour mi metto già nella valigia no lanciamo un appello se qualcuno fosse interessato a tradurre il fumetto di Beatrice in giapponese che bella casa di Trice adesso la cerchiamo che voglia sarebbe proprio il coronamento di un sogno giusto Bea? oh sì uno dei miei sogni è anche quello di pubblicare le mie opere in Giappone eh quindi diciamo che Silvia non ti mancano le idee Silvia quindi mi sembra che questa coppia la sentiremo ancora ne sentiremo ancora parlare di voi due è una coppia d'affetto io sono piena di orgoglio perché insomma conosco Beatrice da quando era piccola adesso ti racconto una cosa buffa quando tu hai detto un ritratto famoso io pensavo che tu ti riferissi al ritratto che Beatrice aveva fatto alla mia gallina perché quando lei è venuta in studio io all'epoca vivevo con una gallina lei molto teneramente mi ha fatto questo ritratto ed è nato tutto dal ritratto che lei fece per la mia gallina per una gallina pensate una gallina che viveva in casa con Silvia già qui ci sarebbe da aprire un capitolo e parlarne per ore ma che è stata invece la scintilla che ha fatto nascere è andata proprio così Sì, me la ricordi Bea? Sì, sì, me la ricordo la Nina Ecco perfetto va bene poi Silvia in separazione parleremo di galline che ci teniamo in casa poi ci spiegherai come si può fare a tenere una gallina in casa grazie mille Silvia grazie mille Beatrice ricordiamo essere Bea il 2 aprile la presentazione poi dal giorno dopo da quando? quando è che lo troviamo nelle varie cop in giro per Lombardia? già dai giorni dopo? Sì, sì, sicuramente perfetto e allora davvero essere Bea cercatelo seguitelo seguite anche Beatrice sui social abbiamo messo anche le varie informazioni su come seguirla perché davvero i suoi disegni sono qualcosa di pazzesco ma non è solo quello è tutto anche un racconto molto molto interessante grazie mille entrambe ciao Bea grazie mille ma cotonia ringrazio grazie mille Fedez insieme a Salvo questa era Viola alle 8 e 30 minuti qui su Crystal Radio tanta musica e buona musica anzi continuiamo con la musica di Sanremo perché è una di quelle che secondo me ha vinto la mettiamo troppo poco e quindi dobbiamo metterla più spesso secondo me ufficio programmazione mettiamola più spesso sopra lo di Big Mama con La Rabbia non ti basta Big Mama La Rabbia non ti basta 8 e 34 minuti qui di nuovo su Crystal Radio è arrivato il momento di contare di contare che cosa la Milano che conta o meglio di avere una bionda che conta buongiorno Viola la nostra donna che conta la nostra bionda che conta buongiorno a tutti senti sempre tante euforia quando entri dopo questa sigla perché? no ma perché mi piace tantissimo mi piace davvero davvero tantissimo questa sigla e allora Viola che cosa hai contato questa settimana? allora questa settimana le stazioni metropolitane di Milano uno a una sei andata a contarle proprio no questa volta purtroppo non ce l'ho fatta effettivamente comincia a diventare un po' difficile 121 stazioni metropolitane a Milano ok comprese quelle aperte della M4 no quelle non le ho ancora contate no no perché ho detto magari non è ancora finita non è ancora per tutto ho contato solo quelle fatte finite bravissima quindi finché non è finita tutta la M4 non la contiamo stazioni della metropolitana quindi però domanda l'oretola è contata una volta sola non è contata due volte sì una volta sola una volta sola 121 sono poche esatto i sotterranei sono 101 quindi 20 ah ben 20 sono pensavo molto meno sì guarda ti dico un paio due di assago beh quelli in fondo quelle in fondo no verso la fine di quelle in fondo è vero era un po' difficile fare San Babi la esterna effettivamente se ci pensi quindi effettivamente ma quindi no sì sì come si chiama assago ne ha due colonio c'era esterna i capoline non solo tutta la linea verde effettivamente verso Gessate giù di là sono quasi tutte fuori dopo Cimiano escono è vero quindi insomma ce ne sono un bel po' bene 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 e il totale della lunghezza della metropolitana di Milano insomma tutto insieme sono 104 km 104 km ecco e quella domanda è sono tante sono poche vediamo io ho guardato ho cercato la più lunga del mondo è quella di Pechino che conta 326 stazioni 690 km cioè 6 volte quella di Milano sì quasi 7 insomma beh non male non male Pechino quante stazioni 300 326 mamma mia chissà se c'è qualcuno che le sa tutte le memorie io le so quasi da memoria le 100 che hai detto le sei a memoria quasi tutte no quasi tutte no forse la gialla la rossa sicuramente la lilla sicuramente beh comunque fa niente no scusate no e poi ho trovato che la più lunga è la verde la linea più lunga di Milano è la verde esatto è 40 km ma la più corta è la lilla invece che è solo 12 km 19 stazioni carina tenera mi fa un po' tenere tu sei un po' arrabbiata però vero con la lilla perché non l'hanno chiamata Viola è vero Viola sarebbe stata molto bella invece l'hanno chiamata Vina Lilla ti hanno fatto un po' questo sgaro infatti mi spiace no poi ho trovato che non sapevo assolutamente che ATM gestisce anche le metropolitane in giro per l'Europa e non solo eh sì è per quello quando ci aumentano il biglietto di così ma andate a aumentarla con di là non a noi invece ma davvero allora gestisce la linea senza conducente di Copenaghen Copenaghen molto simile a lilla se vuoi dire foto effettivamente stessa cosa per Salonico Salonico che è in Grecia brava grazie ho studiato ho studiato ma soprattutto quello che mi ha scioccato di più è quella di Riad ne aveva studiato sì che è la stazione se non sbagli è la metro dell'università che comunque utilizzata dagli studi esatto esattamente e sappiamo anche quanto costa sì allora poi sì sì ormai sono preparato ho cercato e effettivamente a Copenaghen costa di più cioè il biglietto di tre zone a Milano costa 2,20 euro a Copenaghen sono 30 corone danesi cioè 4 euro quindi il doppio praticamente però vuoi mettere gli stipendi di Copenaghen è vero certo il tipico dialetto di Copenaghen parla così vuoi mettere gli stipendi di Copenaghen tutti i Copenaghen parla così invece in Grecia solo 80 centesimi vabbè quello no no non vogliamo dire questo Riad non lo so ma Riad sarà gratis sarà gratis per gli studenti universitari sì lo so può essere anzi ti danno un litro di benzina quando sali su così perché con tutto il petrolio che c'hanno ma sì sicuramente sicuramente vabbè 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 dai grazie Viola allora come tutte le settimane contiamo qualcosa cosa ci conteremo settimana prossima sei già allora no settimana prossima non lo so ancora avevamo una cosa sul lampadario del teatro della Scala di Milano non diciamo niente esatto non diciamo niente non diciamo niente un lampadario siamo arrivati a parlare di lampadari pensa te Viola cosa stanno da contare ma pensa te guarda comunque grazie mille allora Viola grazie mille alla nostra bionda che conta e andiamo invece con un'altra che bionda non è adesso è blu è famosa per i suoi capelli blu no non è Rosvillain è quell'altra è la Loredana Loredana Bertè Loredana Bertè pazza ma che cosa stai dicendo è fantastica questa canzone qualcosa di pazzesco forse sarebbe più da definire comunque andiamo avanti invece con le notizie sono le 8.42 tre ospedali di Milano tra i migliori del mondo eccoli qua quali sono tre strutture meneghine entrano nella World Best Hospital 2024 e un ospedale è pure il secondo migliore di tutta Italia quali sono allora il primo gradino del podio Lombardo se lo prende il grande ospedale metropolitano andando in guarda 52esimo nella classifica generale e secondo Italia soltanto al Policlinico Universitario Gemelli di Roma viene seguito poi dall'ospedale San Raffaele Gruppo San Donato che è al 57esimo posto nel mondo e dall'istituto clinico Humanitas di Rozzano che appunto si attesta al 65esimo posto quarto in Lombardia ma ben distaccato perché è il 117esimo nel mondo il San Matteo di Pavia che precede poi il Papa Giovanni XXIIIesimo di Bergamo che è 135esimo al mondo e gli spedali civili di Brescia che si piazzano al 202esimo posto beh insomma diciamo che tornando invece di sopra nei posti alti il Niguarda è il 52esimo miglior ospedale al mondo secondo appunto questa classifica che è stilata pensate già dal 2019 iniziata secondo la rivista Newsweek analizza 2400 ospedali in 30 paesi in giro per il globo e il miglior italiano che viene a piazzarsi è quello del Policlinico Gemelli di Roma appunto dicevamo che sta leggermente sopra appunto al 52esimo posto del Niguarda un po' di eccellenza milanese meno male questo fa capire anche perché insomma così tanti poi vengono giustamente anche la nostra città per curarsi la famosa immigrazione sanitaria che è un tema molto interessante che abbiamo spesso toccato qui a Good Morning Milano perché sono tante le persone dall'Italia e non solo ma soprattutto anche dalle altre regioni d'Italia che devono migrare si dice proprio così spostarsi per avere le migliori cure un problema sicuramente a livello nazionale ma che fa capire l'eccellenza dei nostri ospedali qui il tema è molto complicato perché insomma si può pensare che tutti gli ospedali in giro per il nostro stivale siano di eccellenza non lo so forse sarebbe un'utopia si può pensare però che uno non deve fare 1200 km per andare a curarsi forse questo invece sarebbe un po' più logico è un tema davvero complicato che magari chissà nelle prossime settimane cercheremo di approfondire con qualche ospite sicuramente so già che la produzione in questo momento quando io do questi spunti inizia già a scartabellare tra i vari contatti che abbiamo ricordi, notizie cercare magari nuovi ospiti da portare in trasmissione quindi anzi ne approfitto per ringraziare sempre il grande lavoro che avviene al di là del vetro voi non lo vedete lo sentite poco lo capite poco ma io cerco sempre di raccontarlo tutte le mattine perché è veramente fondamentale tutto il grandissimo lavoro che viene fatto al di là del vetro avanti con la musica sui Depeche Mode Wagging Tongue Depeche Mode Wagging Tongue alle 8.48 minuti direttamente dal 2023 questa è l'ultima canzone di Depeche Mode ma prima di chiudere prima di salutarvi un'ultima notizia che ci lascia un po' così assoluto a noi giornalisti perché da Repubblica Milano leggiamo tenta di fuggire con 12 libri rubati alla libreria Feltrinelli arrestato un giornalista 56enne l'uomo giudicato in tribunale per direttissima convalidato l'arresto in flagranza di reato per rapina impropria e obbligo di firma allora sapevo che avevamo dei problemi noi giornalisti non è che siamo proprio strapagati la famosa casta non è poi più tanta vero però arrivare a dover rubare 12 libri insomma c'è qualcosa che non qua tra parentesi interessante appunto perché hanno libri che molto probabilmente anzi ha detto mi servivano per lavorare insomma ahimè succede anche questo cerchiamo di farci una risata anche se in realtà insomma il tema forse non è così divertente soprattutto per i miei colleghi che in questo momento devono scrivere di un loro collega arrestato per aver tentato di rubare anzi tenta di fuggire perché poi nella cronaca dell'avvenimento lui viene fermato sulla porta dicendo scusi ma questi libri e no li ho combattiti da un'altra parte all'insistenza dell'addetto alla sicurezza ha provato a scappare di corsa dentro in piazza Gaia Olenti ovviamente però altri guardi sono riusciti a fermarlo in una zona molto molto ben presidiata e quindi insomma quando pensate a giornalista pensate che insomma non è così non ci va tutti così bene siamo un po' così 8 e 55 minuti di venerdì primo marzo e volge al termine questa puntata odierna di Good Morning Milano primo marzo che è anche non l'abbiamo ancora detto ma perché adesso vi spiego perché è anche il giorno in cui è morto Lucio Dalla ebbene sì oggi ricorre la ricorrenza appunto del morte Lucio Dalla è morto il primo marzo 2012 ma lunedì è invece il 4 marzo è il compleanno di Lucio Dalla e infatti Ambrogio Curti avrà una puntata speciale proprio sul Lucio Dalla che ricordiamo anche la famosa canzone 4 marzo 1943 ma forse marzo non è il mese solo anzi è il mese dei Lucio perché invece il 5 marzo è il compleanno e ricorre appunto la ricorrenza della nascita anche di Lucio Dalla di Lucio Battisti volevo dire Lucio Dalla avevamo già detto Lucio Battisti e Ambrogio Curti con Senti Questa non si perderà neanche ovviamente questa ricorrenza e quindi il 4 marzo puntata speciale dedicata a Lucio Dalla e il 5 marzo puntata speciale dedicata a Lucio Battisti dopo di che lunedì ce lo spiega bene lo sapete che lunedì abbiamo il sommario di Senti Questa con Ambrogio Curti che ci racconta tutto 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 quanto Ambrogio Curti che però adesso va in onda dopo di noi 9.05 dopo il GR c'è lui con Senti Questa e invece io vi saluto vi auguro un buon weekend vi auguro di ritrovarci qui lunedì sempre al meglio sempre al massimo qui su Crystal Radio con Good Morning Milano grazie a tutti buon weekend ci sentiamo lunedì ciao